Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi ultimo appello per iscriversi al campionato Scream Engine Formula 1 1991 su RFactor 2 organizzato da simdrivers.eu in strettissima collaborazione con ASR Formula di Alessandro Michali che ringrazio davvero di cuore per questa mod inedita con tante modifiche inedite che sono state apportate e che tra poco avremo a disposizione al lancio del campionato vi ricordo che avete tempo fino al 4 settembre per potervi iscrivere, ragazzi ci sarà una lotta apertissima sul time trial per 3-4 giorni per poter accedere alla categoria pro ragazzi quindi già questo dovrebbe darvi voglia di poter iscrivervi per concorrere già solo per andare alla categoria superiore dopodiché siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto di questo inizio stagione dei campionati di simdrivers delle aziende davvero eccezionali che hanno voluto collaborare con noi voglio ringraziare quindi Roberto Melillo e Giuseppe Guarino per la collaborazione con SRC Components ragazzi sapete un'azienda all'avanguardia per quanto riguarda la componentistica e gli accessori per quanto riguarda la simulazione di guida e quindi stretta collaborazione con simdrivers siamo veramente contentissimi avremo come Montrepremio un qualcosa come premio un qualcosa di veramente molto interessante che scoprirete seguendoci sul canale sulle live del campionato poi ringrazio Vincenzo di 3drap.it che mette a disposizione come premio e questo lo posso dire un cambio sequenziale che rimane a tema del campionato Formula 1 1991 proprio un cambio sequenziale a 4 magneti iperreattivo vintage ragazzi bellissimo veramente ringrazio Vincenzo e 3drap.it tutta per questo premio e poi abbiamo il gruppo di amici Renegade un team fantastico capitanato da Giuseppe Galoporo che è un mio carissimo amico e carissimo amico del gruppo di simdrivers che sostiene questo nostro campionato e lo ringrazio veramente tanto poi abbiamo insieme a noi la NCS Italia che per questo campionato mette in paglio un gadget molto interessante che scoprirete quindi ragazzi rimanete sintonizzati perché ci sono delle sorprese pazzesche anche dopo questo campionato che già risulta essere pazzesco l'hype è altissimo noi siamo veramente contentissimi perché cerchiamo sempre di offrirvi il divertimento e questa volta poi con un monte premi che è veramente molto interessante voglio fare un ringraziamento particolare a Dario Todisco ragazzi perché ci stamperà delle coppe per premiare appunto i migliori in pista e poi voglio ringraziare Davide Di Lodovico di GS Racing 3D Racing Print che offre un circuito retroilluminato e voglio aggiungere ovviamente un ringraziamento particolare a tutto lo staff di Simdrivers che si è prodigato per organizzare tutto quello che c'è qua dietro per quanto riguarda questo campionato quindi ragazzi motori da urlo come dice Scream Engine Montepremi da urlo e vogliamo piloti da urlo ragazzi avete tempo fino al 4 settembre vi aspettiamo perché cercheremo di offrire come al solito una spettacolare live che sia all'altezza di quello che è questo campionato che darà via alla stagione 2021-2022 per Simdrivers.org ragazzi allora se questo video, se questi Montepremi, se questo campionato, se questo canale vi piace lasciate un pollice in su, sfondatelo col pollice in su iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati magari attivate pure la campanellina così siete notificati quando pubblichiamo un video o quando siamo live e non esitate a lasciare un commento ragazzi che è sempre gradito ragazzi come al solito vi ringrazio per avermi seguito noi ci vediamo prestissimo correte ad iscrivervi www.simdrivers.eu ci vediamo presto da Fabrice è tutto un abbraccio ciao 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 ciao